17 agosto 2021 e ancora una volta mare mosso a Numana Numana 360, sì perché in questo video ci sarà un mix di clip fatte in modo tradizionale e altre con la GoPro MAX 360 a 360 gradi questa prima clip tradizionale è fatta con l'iPhone 11 Pro Max 4K 30fps ed eccoci arrivati al primo video 360 fatto con la GoPro MAX 4K ProRes 30fps e come sempre in questi casi lasciamo libero sfogo alla creatività con gli effetti particolari che si possono creare in fase di post-produzione ovvero in fase di pre-editing diciamo così e come sempre in fase di post-produzione GoPro Arre torniamo a inquadrature tradizionali con la GoPro Hero 7 Black e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su Twitter e perché no anche su Instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo e siamo di nuovo a un video 360 con la GoPro Max e andiamo a goderci il mare mosso da un punto di vista particolare ovvero quello del salvamento, ovvero dei bagnelli ovvero dei bagnelli Torniamo con i piedi per terra a contatto con il mare mosso e chiudiamo con una clip tradizionale che ci fa sentire quanto sia forte il vento oggi Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati Guarda altri video, ce ne sono di vari generi Arriveranno altri video, ciao, alla prossima!